Santo, amén, ma grazie alla pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, siamo qui riuniti nella fede per benedire questa nuova Chiesa dopo il restauro. Preghiamo millemente il Signore perché quanti barteranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri seguano con docilità la voce del Cristo che proclama Io sono la porta della vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Padre Santo, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per raccogliere in unità mediante l'effusione del tuo sangue gli uomini lacerati e disperti dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi pascoli nella vita. Doni e i tuoi feneli che varcano questa soglia di essere accolti alla tua presenza, o Padre, per Cristo tuo Figlio in un solo Spirito. Fa, o Signore, che quanti animati da fede figliale si raduneranno in questa Chiesa, siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, e crescano in numero e merito per edificare la Celeste Gerusalemme. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.